Sulla vicenda dell'acqua molisana alla Puglia, sul progetto illustrato e annunciato dal vicepresidente pugliese, assessore al ramo Raffaele Piemontese, è intervenuto il governatore del Molise, Donato Toma. Piemontese in una conferenza stampa ha parlato di stato avanzato del progetto di una condotta di 10 km dal Liscione al potabilizzatore di Occhito per portare acqua alla Capitanata. Si è innescata una polemica con le opposizioni in consiglio regionale che hanno parlato di decisioni calate dall'alto senza i dovuti passaggi istituzionali. Toma ha buttato acqua sul fuoco dicendo che non c'è alcun ok, nessuna firma né un accordo da parte della regione Molise con la Puglia riguardo al progetto e che le interlocuzioni con la Puglia sono nell'ordine di una conoscenza delle loro intenzioni e di valutazioni tecniche. La regione Molise vuole vedere e capire il progetto di fattibilità, considerare ogni situazione e ogni cosa, poi come per ogni decisione. C'è un iter politico istituzionale che di certo non bypassa il consiglio. Si tratta di un allarme ingiustificato, ha tenuto a precisare Toma. E mentre in Puglia festeggiano e fanno conferenze stampa, aggiunge la consigliera regionale del Molise del Partito Democratico, Micaela Fanelli, per annunciare l'opera, in Molise la regione tace nonostante le innumerevoli richieste di chiarimento che in consiglio regionale stiamo formalmente e ripetutamente avanzando dallo scorso mese di giugno e che torneremo a pretendere con una nuova interrogazione urgente alla quale stiamo lavorando. In pratica la guerra dell'acqua tra Puglia e Molise continua.